Un gruppo di esercenti chiede le dimissioni dell'assessore al commercio di Pescara, Giacomo Cuzzi. La storia gira intorno ai rinvi di manifestazioni come la Notte Bianca, che causa maltempo è stata rinviata ben tre volte, e ad una serata dedicata esclusivamente allo shopping, che invece vedrà protagonisti e artisti sul palco e dunque il timore di vedere sfumare guadagni e presenze. Questa la risposta del diretto interessato che da settimane si trova al centro delle polemiche. Sul commercio questa amministrazione ha prodotto un grande lavoro in questi due anni, partendo da lavori strutturali che incidono fortemente sulla vita dei commercianti, come l'abolizione della tassa sulle insegne, la nuova opportunità del plurinegozio. Abbiamo programmato con le associazioni di categoria Pescara Shopping appunto per la notte del 19 agosto, tanti eventi nel cuore della città per riaccendere la funzione commerciale. E poi anche con delle iniziative. Abbiamo concordato la programmazione per quanto riguarda il periodo invernale, da subito 70 mila euro per le luminari natalizie, porteremo a Pescara, saremo la terza città, ad aderire al circuito di luci da artista, cioè di fare del periodo natalizio e delle luminari un vero e grande evento diffuso. E entro fine anno 50 mila euro per rilanciare la funzione del centro commerciale naturale. Lo faremo in sinergia con tutti, ascoltando anche coloro i quali, al di là delle associazioni di categoria, si sono riuniti facendo delle proposte. Noi siamo disposti a lavorare, a ragionare sulle proposte, non siamo disposti a ragionare con coloro i quali, invece di proporre delle idee, che puntano come primo tassello le divisioni di questo o quell'assessore. Così non si cambia, non è così che si costruisce il futuro, noi vogliamo costruirlo con tutti quelli che hanno disponibilità, tempo, passione e coraggio per darci una mano e per lavorare affinché possiamo scrivere tutto insieme delle pagine positive per la nostra città.